momenti. Eccoci qua ci siamo finalmente quindice ventitré come la possiamo definire cantante, attrice, conduttrice televisiva. Come promesso la più amata da tutti i bambini Cristina Davena con noi. Bentrovate, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie, grazie. Che bello averti qua, non sai che attesa hai creato quando abbiamo cominciato a far sapere che saresti stata con noi, cara. No, grazie. Allora, ti abbiamo disturbato perché intanto partiamo subito col dire che domenica sarai dei nostri, domenica dieci di novembre, al Fashion District Mantua Outlet per un grandissimo evento dedicato appunto ai bambini e anche alle famiglie, che è Bimbin Festa. Sì. Eh già, e quindi. Ecco, io sarò ospite d'onore di questa, in questa bellissima, in questa bellissima festa. Eh, i bambini così come gli adulti eh amano divertirsi cantando eh condividendo questa bella emozione che ci dà la musica, che ci dà il cartone animato eh per noi adulti ci fa tornare piccoli e ai piccoli li fa rimanere piccoli, li fa entrare in questo mondo fantastico che è il mondo appunto dei dei puffi così come il mondo di Memole e come il mondo di tante che poi immagino che poi immagino, scusami Cristina se ti interrompo, che molti eh papà eh trovano la scusa, dice sì eh accompagno mio figlio o mia figlia e poi si sentono col volto a pieno no? Ma è vero ma ti dico ancora di più ci sono tantissimi papà e mamme che fanno la fila per fare l'autografo che dicono per i mi ritrovo a fare tre autografi invece di uno perché ovviamente è la famiglia al completo ma è bellissimo. Senti una curiosità Cristina eh tu ti occupi involontariamente o volontariamente comunque la tua carriera è inevitabilmente associata ai bambini ma tu da bambina come eri ma soprattutto a cosa ti piaceva giocare quando eri bambina? Ah guarda io sono una romanticona e sono la classica bimba alla quale ero la classica bimba alla quale piaceva giocare con le bambole per cui io davvero passavo pomeriggi interi a giocare con la mia amichetta del cuore facevamo la mamma eh avevamo i bambini li facevamo mangiare andavamo a fare le passeggiate e poi c'è stato invece il momento del supermarket tu sai cosa facevo io da piccola? Vai ecco una cosa fantastica allora siccome a me io volevo fare avere un supermercato io non so cosa dirti io ritagliavo dai giornali tutti i prodotti che che mettevano in offerta come si chiama in in offerta sì che mettevano nelle pubblicità sì poi nel sotto casa mia c'è un c'era un portico in realtà grande molto grande e allora noi facevamo che tagliavamo tutti questi prodotti facevamo il supermercato per cui facevamo finta di comprare di andare di avere la cassa già allestivi vetrine sì sì allestivo le vetrine però tanto fantasia allora ci mettevi eh in effetti mi divertivo sì bravo mi divertivo con poco perché alla fine noi cosa facevamo ti ritagliavamo i giornali cioè i pezzettini dei giornali e facevamo il supermercato se tu ci pensi in effetti è vero assolutamente poi ci puoi giocare anche oggi eh tu tagli tutti i prodotti poi fai il reparto frutta prendete nota bambini e bambine all'ascolto non è che c'è bisogno di spendere delle grosse cifre ma che bello è ma che bello noi ci vediamo domenica e per una bellissimo pomeriggio insieme per eh cantare divertirci grandi e piccoli per passare una domenica veramente all'insegna del del divertimento dell'emozione della gioia e del e della fantasia sarà bello sarà bello stare insieme Cristina in bocca al lupo ti vorrei chiedere tante altre cose di cosa stai facendo insomma magari una prossima volta ti ridisturbiamo del disco l'uscita del disco uscirà il 19 novembre e facciamo un'intervista proprio per parlare anche di questo nuovissimo progetto che è molto molto interessante fantastico ci conto spero di essere io insieme a Stefano magari averti di nuovo qua con noi grazie da Radio Pico un bacione ciao carissima grazie a tutti ciao ciao